Amici di Euromusi, per me è un grandissimo piacere ospitare ancora una volta sulle pagine del nostro sito un artista che abbiamo già avuto modo di conoscere in passato sia per la sua partecipazione, poi vittoria a The Voice nel 2015, sia per la sua partecipazione e poi anche vittoria a Musi Cultura nel 2020. Abbiamo parlato di lui anche ultimamente in occasione della partecipazione al New Wave Festival. Stiamo parlando ovviamente di Fabio Urto. Ciao Fabio. Ciao a tutti, ciao Beppe, ciao a tutti voi. Hai pubblicato a giugno un nuovo album, un album di inediti. Ce lo vuoi raccontare? Beh è stato, Rive Volume 2 è stato un album molto spontaneo, veramente voluto, quando si dice come anche coi figli, è stato un figlio proprio voluto, cercato, perché è nato sia da alcuni brani che non erano entrati a suo tempo in Rive Volume 1, per una questione che a noi sembrava un po' incompatibilità di sound e invece ad oggi ci sembra una completezza di sound. Mi spiego meglio. Rive Volume 1 era un album diciamo più blues, quindi nel suo essere folk era più tendente al blues che non al country, diciamo, era meno luminoso e aveva delle atmosfere davvero più cupe e anche delle chitarre elettriche più presenti. Insomma, in quell'album noi facemmo entrare solo Domenica, però poi con Domenica vincemmo Musicultura ed era un brano quello che a noi convinceva tanto, ci convince sin da subito anche nella sua essenzialità. Questo piacque probabilmente anche nella manifestazione di Musicultura, ma ci diede un po' il via verso un nuovo capitolo, che è questo capitolo dell'acustico, una dimensione che non si cura molto negli ultimi periodi, almeno diciamo sì, in America c'è sempre, è sempre di moda perché in America il country non morirà mai, insomma, così come il blues, però da noi un po' meno. E allora abbiamo preso, come ti dicevo prima, dei brani, alcuni brani che stavo elaborando per Rive Volume 1, invece altri sono nati in corso d'opera per non dirti che in realtà poi due, tre brani di Rive Volume 2, compreso Aria, è nato due giorni prima dell'inizio delle registrazioni, quindi potrei immaginare quanto fosse contento il mio coproduttore che aveva già preparato tutti, tutte le sessioni, però ne valeva la pena. È stato un album nel quale ho voluto comunicare il più possibile la mia sincerità, la mia spontaneità, quello che provo quando immagino la musica, quindi più delle volte è un silenzio che si riempie pian piano. In quest'album ci sono molti silenzi, molte pause che fanno parte proprio della della canzone. Un anno fa ci hai raccontato e per variare avresti voluto fare un'esperienza nuova, quella d'attore. Com'è andata questa questa esperienza? Ma non ci ho pensato, guarda, è una cosa che poi non ho avuto modo e tempo di coltivare. Ho fatto qualcosa che poi nell'ambito, ho condotto un programma televisivo in Calabria, dove andavo nei alcuni posti poco conosciuti e davvero poco conosciuti a far vedere delle bellezze naturalistiche. Quindi direi che più che attore è stata un'esperienza Alberto Angeliana, però è stato molto bello. Mi è piaciuto davvero tanto e tra l'altro è venuto anche fuori piuttosto bene. Tanta gente mi scriveva, diceva che grazie Fabio sono andato a visitare oggi questo luogo TOT, perché l'avevo visto sul programma e per me è stata una sensazione nuova. Sebbene io suonassi anche durante la trasmissione, perché poi aprivo e chiudevo più che altro la puntata con un brano suonato sul post. Siamo passati da un palco all'altro, dal palco di musicultura macerata al palco del New Wave Festival, un'esperienza internazionale. Tra l'altro l'unico finalista italiano a partecipare a questo corso. Com'è andata? Raccontaci un po' questa esperienza. New Wave è stata un'esperienza molto bella, anche molto impegnativa, perché arrivati a Sochi, io sono arrivato e abbiamo iniziato le prove praticamente subito. Il palco era un palco più impegnativo di quello che tutti noi pensavamo, perché proprio per grandezza, era un 25 metri, insomma un palco molto grande, e quindi abbiamo dovuto affrontare una sorta di stage, una masterclass, su come gestire il palco, perché io sono abituato a suonare chitarra e voce. Lì chiaramente ero in veste di solo cantante, quindi riempire un palco così grande da solo non è esattamente quello che io sono abituato a fare. Per cui la masterclass è stata bellissima, perché anche imparare come gestire le telecamere, sai un conto è essere giù, essere uno spettatore che ti guarda da sotto, allora se l'artista si avvicina a te ti senti già coinvolto. Ma dall'altra parte dello schermo, perché poi era un festival ripreso da diverse televisioni, bisogna anche stare centrati, non puoi magari stare sempre di profilo sulla telecamera 1, allora abbiamo curato tutti questi aspetti per quasi 14 giorni, poi siamo saliti sul palco, è stato molto bello, cioè è stato sicuramente emozionante, poi anche curioso, perché girare lì con l'interprete, rilasciare interviste quasi sempre in inglese, e anche le domande, insomma le domande diverse che arrivano in Italia, magari qualcuno mi conosce, in Russia no, fino all'altro ieri, insomma questa è stata, quindi è stato bello anche, come dire, vedere cosa mi chiedevano e anche a quale tipo di musica loro si erano già un po' affezionati, perché ad esempio molte persone che avevano intervistato avevano ascoltato più Rive volume 1 che non Rive volume 2, c'è anche una tendenza in Russia più forte al rock rispetto all'Italia, un'inclinazione proprio quasi naturale più verso il rock, sebbene il pop domini le scene come anche da noi, ma devo dire che le chitarre elettriche gli piacciono parecchio. Quindi possiamo rifinirlo un ritorno su un palco televisivo dopo l'esperienza nel talent, l'esperienza su un palco e per quanto sia differente, comunque è un palco e fare con la televisione? Sì esatto, io questo non è che non lo sapessi, ma non me lo aspettavo così, pensavo fosse più festival, sì magari c'è il canale locale, invece era proprio tanto televisivo, dovevi stare a dei tempi strettissimi, quindi ho fatto un salto di qualche anno indietro e ho rivisto alcune scene di The Voice dove devi proprio entrare al millesimo di secondo per non rubare tre secondi alla pubblicità, per dirti queste cose qua. e però insomma è stato bello perché c'era tanta tanta gente, poi insomma c'erano anche degli artisti russi molto affermati, che erano andati tra il pubblico, ecco nella giuria, è stata una bella esperienza, soprattutto ripeto la masterclass è stata molto illuminante, è Alexander Rebsin che è un coreografo e direttore di scena con un'esperienza veramente incredibile, io ho avuto la fortuna proprio di avere un'interprete rapidissima nella traduzione ed è stupendo ascoltare, sentire parlare qualcuno del tuo mestiere, ma proveniente da un'altra cultura, molte cose le ritrovi, molte altre invece proprio ti sorprendono perché sono molto attenti, sono molto attenti alla performance proprio, a livello coreografico sono veramente avanti, ecco cioè davvero tanto 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 severi anche. Parlando del tuo percorso artisti, ho iniziato come artista di strada, poi i passaggi che abbiamo già abbondantemente raccontato, ma avresti mai immaginato di arrivare a produrre un lavoro come Rive Volume 2 e portarlo su un palcoscenico internazionale, guardandoti indietro? Beh, era un po' il mio obiettivo, io quando suonavo in strada facevamo i nostri concerti, un po' delimitati anche geograficamente da quelle che erano le nostre possibilità, lo facevamo con tanto cuore e tanta passione, sperando chiaramente di ampliare quel pubblico, di far diventare quel palco sempre più grande, però onestamente non ho mai avuto il desiderio di affrontare un palco sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande. A me interessa, e questo lo dico veramente, ma poi chi mi conosce lo sa, suonare per qualcuno, cioè se a me piace già suonare per me, per me stesso, quindi figuriamoci, la strada mi ha abituato ad uno spettatore, a due spettatori, a tre spettatori, e ancora oggi è la cosa più difficile che esista, per me suonare davanti a tre, quattro, cinque persone, non è facile. In realtà quello che mi ha sorpreso è che più i palchi diventavano grandi, più gente c'era, più io stavo tranquillo invece, entravo sul palco tranquillo, e quindi in questo mestiere dipende tanto dal carattere che ti porti dietro. Pensavo fosse più difficile magari affrontare un palco internazionale, non è più difficile che suonare davanti a cinque persone in strada, soprattutto se stai suonando un brano tuo, inedito, quindi non gli dai la possibilità di appendersi, di attaccarsi, attraccare a qualcosa che anche loro conoscono e che li mette in comune con te. È un brano inedito, soprattutto per loro. Difficilissimo per passare quel messaggio. Quindi proprio per rispondere brevemente, non so se me l'aspettavo, mi interessava però fare anche questo tipo di esperienza. Poi il mio ambiente sicuramente è un po' più quello da teatro, da anfiteatro, che non da stadio, insomma. Hai parlato della curiosità di quando ti hanno intervistato lì in Russia. Cioè, qualche domanda particolare ti hanno fatto, hai risposto e magari ti ha colpito particolarmente? Cosa ti sta sorprendendo di più di questa città di Solci? Cioè, nel senso, cosa ti sta dando questa città in questi giorni? Era una domanda che mi ha spiazzato, perché cosa non ti aspettavi da Solci? Cioè, quasi come se... Io lo stacco culturale non l'ho sentito, perché quando si tratta di musica è linguaggio universale, però effettivamente eravamo proprio in un altro posto. Cioè, non è che andare a suonare in Francia o in Germania ci sta, ma in Russia non è proprio così consueto, no? Andare a suonare in Russia, poi a sud della Russia, soci così vicino anche ad altri paesi, se vuoi neanche distante dal Medio Oriente. C'è un incrocio di culture pazzesche, e quello che si respira per strada è tanto ordine, per esempio. Si vedeva tanta disciplina anche per strada da questo punto di vista. Io non sapevo cosa rispondere. Dicevo sì, mi sta sorprendendo, soprattutto per il caldo, perché pensavo facesse molto più freddo, invece abbiamo avuto 35 gradi costanti. E questo, per la voce, insomma, è stato un bene, anche se dopo 15 giorni di prove continue, ad orari anche impensabili, la voce è arrivata stanca alle serate finali del festival. Beh sì, era un po' questo. Poi chiaramente si chiedeva sul nostro percorso. Loro chiaramente non sapevano cosa fosse musicultura, no? E quindi mi chiedevano appunto qual era la vittoria più importante, o il traguardo più importante di quelli raggiunti negli ultimi anni. Quando io rispondevo che era semplicemente il fatto di poter suonare la musica che mi piaceva, che mi piace per un pubblico, poterla produrre come piace a me, loro rimanevano sempre quasi stupiti, perché io non rispondevo o la fama raggiunta da o... ma rispondevo sempre parlando di musica. Poi è la verità. È la pura e semplice verità per me. Un anno fa io ti ho fatto una domanda, ricordo ancora, citando il titolo di un tuo brano, di quell'anno, di quel 2015, ho paragonato la vittoria musicoltura come un ultimo esame. Si può dire lo stesso anche di questa partecipazione al New Wave, di questo tuo ultimo lavoro? No, perché, oddio, chi lo sa, adesso che mi ci fai pensare, è comunque un esame in qualche modo da superare, perché poi quando ti invitano ad un festival, tu arrivi, dormi, il giorno dopo vai a suonare, la gente ti dice solo ciao, com'è andato il viaggio, è un conto. Quando ti preparano all'esibizione, vuol dire che c'è in qualche modo un'aspettativa e tu devi anche rispettare alcuni parametri, quindi devi ricordare delle cose nel momento giusto e in qualche modo potrebbe avere il sapore dell'esame. Però, no, l'ultimo esame è quello che è il prossimo che verrà, questo album è stato un altro ultimo esame, finché non ce ne sarà un altro da fare, perché in quest'album riuscire ad essere essenziali è stato difficile. Aggiungere, 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 aggiungere è più semplice che togliere, perché quando togli hai l'impressione che ci sia il vuoto, non devi lasciarti spaventare da quei vuoti che spesso, come dicevo prima, fanno parte della canzone stessa e regalano tante emozioni ad un ascoltatore. Penso in macchina, quando tu pensi che la canzone sia finita, invece torna un violino e sale, 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 poi riparte una strofa piuttosto che un ritornello. È stato l'ultimo esame fino al prossimo. È bellissimo sentire questo racconto, si vede proprio la passione e ci metti nella tua musica, si vede che questo è il tuo sogno e lo stai vivendo tuttora. Allora io ti faccio un'ultima domanda. L'ispirazione per questo tuo lavoro, da dove arriva? Guarda, come dicevo un po' all'inizio della nostra chiacchierata, in quest'album io ho voluto comunicare quello che sento io quando creo musica. Quasi sempre mi succede di guardare un paesaggio in treno piuttosto che a piedi, piuttosto che seduto proprio in un bosco e farmi cullare da una colonna sonora, cioè far nascere una colonna sonora intorno a quel momento, che lo descriva senza parole. Quindi questo rivela anche il fatto che io compongo prima la musica delle parole, sempre. Non è facile per niente perché è un momento talmente intimo e solitario, quello lì, che a volte non ti viene voglia di comunicarlo, di condividerlo. Riuscire a catturarlo è difficile, è difficile, ci vogliono anche nervi salvi, anche tanto esercizio perché qualche anno fa ti avrei detto eh no, l'ispirazione è quella, cioè se è passato il momento è passato, invece poi te la fai tornare se il mestiere inizi a conoscerlo davvero. Quando poi sei davvero musicista te la fai tornare. Penso che un po' tutti lo sappiano questo. sai, riuscire a dare di noi stessi e riuscire a regalare questa solitudine è un po' come regalare l'essenza della nostra, della nostra persona, quello di cui non parliamo tutti i giorni. Il mio è sempre stato un caso in cui, musicale, in cui non interessa dire che stasera vado a ballare e ci ubriachiamo tutti e poi fino all'alba sotto cassa, nel senso non mi interessa, non è un argomento che per me fa musica, crea musica, ecco. Per me gli argomenti che creano musica sono altri, i fenomeni naturali, ma soprattutto, come ti dicevo prima, quella solitudine che secondo me quando la regali agli altri, dico proprio regali appositamente, perché regalare la propria solitudine agli altri è una medicina, è anche un modo per non far sentire soli gli altri, perché non tutti parlano della propria solitudine, eppure tutti noi siamo ingabbiati nella nostra solitudine in qualche modo. Talvolta ci fa spaventi, talvolta ne abbiamo proprio bisogno, però è un argomento abbastanza delicato, no? Quindi quando si riesce a parlare di solitudine senza dire la solitudine, è bello, è un momento di magia. Io spero di riuscire a farlo anche nei prossimi album, perché di Rive Volume 2 sono tanto, tanto contento, veramente tanto. e siamo contenti anche noi di aver ascoltato un album così bello, così intenso e così personale anche, quindi faccio un invito a tutti i nostri lettori, ascoltate questo album. A volte sembra anche un po' retorica, lo dico praticamente a tutti, però io quando faccio un'intervista è perché mi piace veramente il lavoro che ho ascoltato e questo è uno di quei casi. Io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato tutto di quest'album, di letteralmente di tutto quello che è successo in questo ultimo periodo e speriamo di rivederci presto con un nuovo lavoro. Grazie a te, grazie a te Beppe e grazie a tutti gli ascoltatori. Ci risentiremo presto di sicuro.